questo con lo sparks che ti ha sparato a dove sta? è il top? dentro sul mio ping là ne ho uno qua eh ma ve ne siete andati? si oh canno nooo non l'ho sentito non l'ho sentito è uno contro tutti che sto trovando lo sparks è sempre sul tetto è sceso oh c'è il limonatore addosso quello con lo sparks sta salendo sul tetto ommy si quello con lo sparks eccola aspetta che sto andando di sali anch'io sul tetto ok sta curando arriva bamba arriva bamba ommy 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 ci vorrei come non muro necessitiamo il boss